Lei è strosa e vivace giornalista di 50 anni al terzo matrimonio, lui attore brasiliano di 24 anni, Beatrice Baratto e Martins Fernandez Vinicius si sono ditti sì questa mattina in comune a Imperia. A celebrare le nozze l'assessore Pino De Bonis, testimone della sposa un sacerdote, Don Antonello Dani, parroco di Piani d'Imperia. La Baratto e Vinicius si sono conosciuti in Brasile in occasione di un incontro di calcio allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro. Ora hanno annunciato di voler vivere fra Imperia, Rio e Tenerife. Alla coppia vanno le felicitazioni della direzione e della redazione di Imperia TV. Grazie per la visione Grazie a tutti.